Piero, ma tu conosci tanto bene Torino. Guarda, potrei fare o Gianduia, che è la maschera, Giacometta, che è la maschera femminile della città, o il sindaco. Io preferirei il sindaco a questo punto, visto che sei uno che porta a termine i suoi progetti. Certo, e ti voglio come assessore. Guarda che belle le biciclette, c'è tutto a Torino. Tutto, pensa. Che poi non sono biciclette queste. Donne, ciclette, negozi. No, questi sono. Prima c'erano i bicicletti. Ah, prima c'erano i bicicletti. Ciao ragazzi, ciao Piero. Ciao ragazzi. Salutiamo i colleghi della diretta della Rai. Noi invece andiamo di là. Noi andiamo a mangiare. Guardate come cammina sicuro per le strade di Torino. È incredibile, è una sicurezza. Un cammino con le gambe, normalmente. Ma una sicurezza, è troppo sicura. È casa per me Torino, è casa. Guarda che bella. Ecco, questa è una, come si chiamano? Questi sono portici. Un classico portico. Buongiorno. Salve. Buongiorno. I portici sono una caratteristica della città e la cosa meravigliosa, per modo di dire, è che a destra i portici sono continuativi, a sinistra invece dove tagliano le strade ne manca un pezzo, perché? Perché sulla sinistra girava sempre il re e non si bagnava mai, anche quando attraversava una strada. Di qua invece i poveri disgraziati, fino a un certo punto bene e poi bagnavano. Città regia, 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 sabauda, sabauda, misteriosa, misteriosa, magica, magicissima. Avanti e indietro.